L'arte che preferisco di più fra tutte è quella italiana Ah già, da prima di dieci anni fa E proprio per questo tutte le volte che mi trovavo sempre a realizzare qualche opera Ho sempre desiderato la necessità di fare qualcosa in Italia E quindi oggi finalmente ho questa opportunità Mi sono davvero molto emozionale Penso davvero che ci siano molti elementi di vicinanza fra l'Italia e il Giappone E comunque abbiamo una cultura estremamente profonda e molto antica Quello che ci tengo proprio a dire è che dato che questa per me era un'occasione davvero importante Tutte le opere che avete la possibilità di vedere oggi sono opere interamente originali Fatte apposta per questa esposizione E quindi è stato davvero molto molto difficile anche tra l'altro mandare tutte le opere e oggi abbiamo fatto molto di un gioco di cultura di Niponese lo stesso è il museo di Niponese e la storia di Niponese e le storie di Niponese che voglio prendere nuove nuove storie e di questo modo voglio farvi che ancora non vediamo un gioco di più che non vediamo ho cercato di fare un percorso un viaggio quindi inizierete entrando probabilmente ritrovando alcuni elementi che sono tipici dell'atmosfera della sensibilità giapponese tradizionale però ho voluto soprattutto sulle ultime opere realizzare qualcosa che credo che gli italiani pensando all'arte giapponese non abbiano mai visto prima d'ora un rossetto lei si lavora per venire come disegni si trova tantissime cose in Giappone? no non ho poco dei dispermati in Italia in Italia lei si trova tantissime come disegni sui scappate di fiammi in fazer l'incorso in Italia allora italiani non sono italiani è chicarà se se che questo l'incorso la si c'è l'incorso 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 dell'incorso c'è in Italia il mio film è molto verato e molto solido molto soliante Grazie. Grazie a tutti.